ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video interattivo volevo subito ricordare che questi sono degli interattivi e come tali adottate ciò che le carte vi comunicano alla vostra situazione attuale e al vostro settore di interesse che esso sia amore lavoro fortuna famiglia o personale i video hanno validità dal momento in cui se ne prende visione anche se la data di pubblicazione è già superata dal momento in cui si prende visione tranne quelli che hanno riferimenti o date a un periodo specifico per i video sullo zodiaco il mio consiglio è di ascoltare anche il tuo scendente il segno dove si trova la luna nel tuo tema natale per tutto ciò che riguarda le tue emozioni le intuizioni e ciò che senti dentro di te il segno in cui si trova giove per il lavoro il denaro la carriera le ambizioni gli obiettivi e ciò che si realizza in maniera concreta il segno in cui si trova venere per la famiglia l'amore i rapporti con le persone sia quella che quelle che già conosci sia per quelle che conoscerai si eseguono rituali di purificazione energetica contro malocchio negatività invidi e gelosie con stampa digitale personalizzata da scaricare gratuitamente stampare le letture di cartomanzia personalizzata ricerca e spiegazione del proprio numero personale numero del destino attraverso la data di nascita ed il nome per sapere il tuo scopo in questa esistenza evolutiva dell'anima e cosa significa il colore della tua aura e quali benefici porta alla tua persona attivazione delle rune magiche per ogni vostra esigenza con possibile stampa digitale su richiesta da scaricare gratuitamente e stampare per ricevere tutte le info necessarie e procedere a come fare per avere tutto ciò di cui si ha bisogno sotto ogni video trovate i miei contatti numero whatsapp solo messaggi e indirizzo e mail vi ricordo che tutti i servizi da me offerti sono su prenotazione grazie per l'attenzione vi lascio alla visione del video eccoci qua con il nostro elemento terra e con i segni toro vergine e capricorno vediamo adesso che cosa c'è per voi chi è questa persona che farà qualcosa di inaspettato nei vostri confronti cerchiamo di dare delle caratteristiche con le quali voi la potete individuare e fare attenzione appunto ai suoi gesti allora vediamo un po che cosa abbiamo per quanto riguarda i segni di terra creativo simpatico altruista vediamo un'altra caratteristica per i nostri segni di terra vediamo un po che cosa viene fuori allora sfrontato qua abbiamo un bel tipino altruista creativo simpatico e anche sfrontato magari è qualcuno che ciò che pensa dice in quel momento allora però deve essere una persona abbastanza piacevole da frequentare perché quando è creativo e simpatico diciamo che sono molto molto piacevoli da frequentare questi soggetti ecco magari fa parte della vostra comitiva magari fa parte del vostro ambiente lavorativo magari un collega un pochettino più che si fa notare più rispetto agli altri allora è un personaggio che sa come fare il galantuomo che sa come attirare la vostra attenzione sa essere un galantuomo sa essere gentile è molto delicato nei modi e anche nelle parole poi abbiamo è un qualcuno che in questo momento è diviso da voi vi faccio un esempio se è un collega di lavoro magari è in un'altra sede in un altro ufficio comunque c'è una sorta di divisione verso di voi nel senso che siete divisi da un qualcosa potrebbe essere la divisione di un comportamento che a voi non sta bene potrebbe essere che uno di voi o tutte e due siete impegnati ma c'è come uno sbarramento una barriera vediamo ancora però qua io vedo che voi vorreste stare insieme vorreste avere più contatto fisico vorreste passare più tempo insieme vedete e c'è qualcosa che nasconde magari nasconde proprio questa voglia di stare insieme a voi magari nasconde appunto una passione che ha nei vostri confronti e la vorrebbe urlare proprio verrà vorrebbe urlare questo sentimento questa passione questa voglia di abbracciarvi e di stare insieme questo è quello che mi dice il il nostro soggetto adesso andiamo a vedere di che cosa parliamo anche per voi qua è la caratteristica è proprio la prudenza è il giudizio ma in questo caso ci sta se c'è qualcosa che vi divide e secondo me quello che vi divide appunto è un'altra donna quello che vi divide è un'altra donna magari lui con questa persona non ci sta più bene e vorrebbe appunto gridare la sua insofferenza mi parla di lavoro come vi ho detto potrebbe essere nel settore lavorativo oppure questa persona sta facendo un lavoro abbastanza faticoso per ottenere il risultato di sganciarsi da quella che è una relazione che non va più bene non va più bene e venire verso di voi però lo fa con molta prudenza perché sta coltivando internamente questa passione nei vostri confronti allora vediamo a livello di emozioni che cosa mi dicono le carte infatti vedete passioni attrazione fisica chimica passione travolgente ardore trasporto poi vediamo ancora sofferenza cuore spezzato sentimenti negativi delusione amorosa perché non riesce ad arrivare a voi lentezza movimenti lenti tergiversare temporeggiare rimandare una decisione magari ha rimandato fino a questo momento e questo magari sarà il momento adatto dove prenderà una decisione sia per sé che per voi si deve vedere se voi siete nelle condizioni di volere accettare questa situazione anche per voi i sentimenti sono sinceri sono dei sentimenti sinceri genuini nel senso che questa persona quando voi la sentite proprio che si sente in armonia con voi è vero se voi avvertite la sincerità e avete dei dubbi no questa persona è veramente sincera imprevedibile perché qua c'è qualcosa di imprevedibile che si sta facendo nella vostra nella vostra routine quotidiana con questa persona vedete ci sono delle avversità dei conflitti legate a questa donna vedete però ci sono anche buone notizie in arrivo piacevoli sorprese qua ci sono sentimenti che vanno a go go e ci sono dei sentimenti puri e genuini non pensate che questa persona stia facendo il doppio gioco anche se voi state sempre sul chi va là ma vi posso dire che questa persona è proprio sincera nei vostri confronti ci sono delle trame fitte ecco nella vita di questo soggetto perché ha a che fare con un'altra donna allora potrebbe anche essere che già lui ha terminato questa relazione potrebbe essere che lui già ha terminato ha esaurito i sentimenti con questo soggetto con questa donna però ancora magari lei lo affascina ecco magari lei con qualche scusa con qualcosa tenta ancora di tenerlo diciamo nelle sue grinfie ma il suo cuore ormai è andato completamente verso di voi e qui quello che lui farà di inaspettato secondo me è come una sorta di dichiarazione sincera un qualcosa che lui vi verrà a dire in un momento inaspettato in un momento quando voi meno magari voi neanche ve ne renderete conto ecco di quello che lui andrà a fare però lo farà lo farà farà qualcosa di inaspettato nei vostri confronti perché per lui questa situazione con questa donna già è terminata allora vediamo di sistemarci i nostri segni toro vergine e capricorno e di vedere che cosa ci dicono gli oracoli ok vediamo un po andiamo a sistemare quelle che sono le nostre i nostri mazzetti perfetto andiamo a sistemare i nostri mazzetti e vediamo un po che cosa ci dicono per il toro vediamo cosa c'è per il toro abbiamo possibilità una bella possibilità per il toro abbiamo fedeltà perciò benevolenza amore e pentimento poi abbiamo per la vergine vediamo che cosa c'è per la vergine abbiamo prigione magari il segno della vergine si sente un po intrappolato in situazione però c'è una bellissima carta della speranza e una perseveranza perciò la vostra perseveranza segni della vergine la vostra perseveranza porterà appunto a un qualcosa di bello di veramente bello per voi incomprensione per il capricorno sensi di colpa sempre per il nostro capricorno che pensa troppo e azione magari il capricorno sta 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 e poi passa all'azione quando tutti non se lo aspettano ecco adesso andiamo a vedere che cosa ci dice il nostro oracolo dell'amore allora vediamo per il toro volubilità qualcuno non è coerente immaturità e instabilità non permettono alla relazione di evolvere poi abbiamo passione c'è una forte attrazione e passione tra voi desiderio irresistibile e impulso irrefrenabile vediamo per la vergine conoscersi meglio questa situazione richiede un maggior approfondimento cercate di comprendere meglio le vostre sfaccettature caratteriali poi cosa abbiamo paura dell'abbandono qualcuno ha paura di essere abbandonato problemi che derivano dall'infanzia e poi per il capricorno abbiamo una pausa di riflessione qualcuno ha bisogno di un po' di tempo per riflettere sulla relazione è necessario un distacco momentaneo al fine di prendere la decisione giusta e poi abbiamo esprimere l'amore qualcuno potrebbe manifestare il suo interesse e i suoi sentimenti dichiarazioni in arrivo magari dopo questa dichiarazione i nostri amici del capricorno dicono ma aspetta un attimo fammi riflettere vediamo che cosa vi direbbe il nostro soggettino andiamo a vedere per il toro ti desidero non riesco a dimenticarti e poi quando ti vedo mi emoziono bellissime carte per la vergine voglio pensare a me stesso i vergini per adesso hanno un progetto proprio di evoluzione personale forse non ti piaccio abbastanza hanno dei dubbi e poi i sogni sembrano realtà sognate spesso segno della vergine voi poi abbiamo meriti di più il capricorno pensa poi abbiamo voglio capire cosa provo l'ho detto io che il segno del capricorno è in una fase di riflessione ho paura di ciò che provo perché non riescono a capire ad accettare quali sono i veri sentimenti che provano per questa persona tutto quello che viene detto per quanto riguarda i segni in particolare potrebbe essere riferito se siete voi uno di questi segni o se è la persona diciamo di cui stiamo parlando che farà qualcosa nei vostri confronti segni di terra io vi ringrazio per aver visto il video vi aspetto nei commenti come sempre e ci vediamo al prossimo video grazie grazie grazie